ciao a tutti in questa giornata assolata io oggi sono venuta per parvalvi di perfetta imperfezione un progetto per il calendario per 2021 è un calendario che parla di fallimento imperfezione e di imprevisti io sono renata sono polacca e allora come ha detto tanti anni fa un mio illustre concittadino se sbaglio mi corrigerete sono illustratrice e creo illustrazioni e loghi per i brand mi sono specializzata sul raccontare il lato umano dei brand quella parte che crea contatti quella parte che racconta valori la missione con una storia visiva e nel mio lavoro utilizzo soprattutto ora questi fogliettini voleranno perché siamo in tema perfettamente in tema è tutto previsto e parlerò perché parlerò di fallimento perché portare fallimento su un palco e non soltanto su un palco ma anche proprio creare un progetto intero di un calendario perché penso che anche voi siete liberi professionisti il fallimento fa parte dell'avventura impreditoriale prima o poi ci tocca ovviamente parlare dei propri fallimenti davanti a un gruppo di gente sconosciuta con un videocamera che è pronta per condividere video racconto non è facile ma vi volevo chiedere chi di voi ha fallito mai nella propria vita mani su fantastico siamo qui intorno cinquantina di persone ora mi sento meglio perché lo spirito di questo talk si può racchiudere in una frase una citazione che mi permetto di citare una frase un detto africano se vuoi andare veloce vai da solo se vuoi andare lontano vai insieme insomma vi porto insieme con me a fare questa avventura e andremo lontano no finisce fra dieci minuti perciò non sarà molto lontano questo detto racconta questa storia perché cosa è successo nel 2019 ero incinta di secondo genito ed era un anno del peggior fatturato che io abbia mai fatto e nel 2020 ad agosto era evidente così ho iniziato a pensare ok ho fallito essere illustratrice grafica portare panna a casa come libero professionista non ha funzionato perciò ho iniziato a fare i colloqui di lavoro per trovare il lavoro sicuro con contratto però nel frattempo come noi liberi professionisti non siamo soli tendiamo a pensare di essere soli perché siamo noi e i nostri clienti e pensiamo che c'è il nostro ufficio e non c'è nient'altro invece ci sono altri liberi professionisti che vivono stesse cose basta andare e chiedere o confronto o aiuto o un consiglio così feci in questo caso perciò ho iniziato a parlare con miei colleghe anche con professioniste che di altri ambiti e ho scoperto che non succedeva soltanto a me non ero unica e così ho avuto un'idea volevo condividervi un esercizio io per mio lavoro lavoro molto con le emozioni perché creo immagini che rappresentano delle emozioni e queste immagini devono suscitare emozioni nei clienti e perciò ho lavorato tanto nell'arco dei anni su questo uno di questi esercizi è questo se voi pensate a quel fallimento che vi è venuto in mente quando vi ho chiesto se avete mai fallito tenetelo presente lì e chiedetevi di che colore è che forma ha e dove si trova perché una cosa che è indefinita così la definite diventa più facile affrontarla non è più una cosa che può diventare enorme perché ovviamente per esempio nel mio caso il fallimento ti paralizza la paura che senti quando ammetti di aver fallito ti può paralizzare se poi tu inizi a pensare che forma ha, dove si trova diventa più facile affrontarlo e così l'avete fatto? avete il vostro fallimento, colore, forma? per me questo fallimento ha avuto questa forma qui rettangolare con immagini all'interno e con i testi di 12 professioniste perché in uno di questi colloqui ho pensato che il mio obiettivo è materializzare il mio fallimento in un oggetto, un oggetto non solo un oggetto qualsiasi ma un oggetto bello, elegante, piacevole da vedere che ispirasse anche altri perché quando ho fatto i colloqui con i miei colloqui ho scoperto appunto che non solo io avevo bisogno di confrontarmi su questo tema che è un po' un tema tabù, ora forse si inizia a parlare molto di più perché ci tocca tanti di noi volevo che fosse un'ispirazione e così ho chiesto appunto riconoscere che abbiamo fallito e poi trovare aliati sicuri, così ho chiesto 12 professioniste che stimavo, che avevano successo di scrivermi dei testi sull'imperfezione e fallimento, loro hanno risposto tutte quante molto contente di poter partecipare a questo progetto e così è iniziata l'avventura e da queste tessiture si è generato il progetto del calendario per 2021 io quando ricevo le parole cerco di, faccio intervista, lavoriamo sulle parole chiave e cerco di sintonizzarmi con cuore e mente con le persone per cui devo creare un'immagine e le raccolgo e poi aspetto, lascio del tempo per decantare e poi inizio a creare questi testi arrivavano, era settembre per me è stata una meraviglia leggerli perché mi davano, erano dei semi che mi facevano vedere la tematica da un altro punto di vista, mi facevano scoprire nuovi punti di vista ma anche le soluzioni perché alcune delle professioniste hanno scritto proprio modalità con cui affrontare differenti momenti io ho collaborato, ho chiesto anche collaborazione di una grafica, Valentina Sanso e di un'angela Massotti per editing di testi quando lavoravo appunto con Valentina ho individuato palette colori che ho diviso in quattro stagioni e questi testi quando arrivavano ogni professionista mi chiedeva alcune hanno chiesto proprio che volevano un mese preciso perché ciascuno di questi testi corrisponde anche come simbologia come tematica a dei mesi dell'anno e questo vorrei comunque condividere con voi questa sensazione di meraviglia che io ho sentito quando mi arrivavano questi testi anche se non sono adatta a leggere quel tipo di prosa però vorrei provare almeno leggerne uno di Sara Costanzo, pedagogista, counselor, formatrice e insegnante una tenerezza grande alle volte ci accade di sentire una momentanea perdita del disegno non riusciamo a vedere la trama del tappeto né da dritto né da rovescio accettare questo, che di colpo la trama si interrompa stare nella grande lezione del vuoto e del silenzio nelle fiabe spesso succede che proprio nel momento in cui non c'è nessuno proprio quando i protagonisti perdono la visione intervengono dei messaggeri meravigliosi a sostegno dell'attesa della stanchezza della paura e allora dopo lunghissime nevi anche noi scopriamo che il seme non è marcito che il coraggio ancora si muove nel nostro cuore che il tempo per mantenere le nostre più intime promesse passava dallo stare fermi e dal non sapere una tenerezza grande allora si genera verso noi stessi per aver attraversato le terre dello sconforto e aver ritrovato grazie a quel viaggio il frutto più odoroso della nostra presenza e l'immagine che vedete qui sulla destra è quella che racchiude queste parole e volevo parlarvi anche della tecnica che è usato perché questa tecnica corrisponde molto all'imprevisto è monotipia colore si usa le lastre di pelexigrass si mettono colori ad olio sopra con il rullo e con le piante che trovi o piante asciutte o piante fresche si crea una composizione e poi si mette sopra un foglio di carta e si stampa ovviamente tu prevedi cosa vuoi fare però non sai mai quello che scopri perché poi apri il foglio e vedi quello che è venuto perciò succede spesso che lo devi fare più più volte per arrivare al risultato che vuoi perciò ha proprio una tecnica che rispecchia benissimo il processo anche dell'imperfezione e fallimento perché appunto per me è anche molto importante che quando lavoro con i progetti di trovare una tecnica che possa esprimere quello che deve raccontare e la unisco poi con quello che devo fare questo progetto cosa volevo ottenere? volevo ottenere un progetto che diventasse come una spalla di un'amica con cui confrontarsi nei momenti difficili nell'arco dell'anno e devo dire che ci sono riuscita perché il progetto ha avuto successo ho venduto parecchie copie che non mi aspettavo poi dovevo gestire le spedizioni non ero ancora preparata anche a questo e tante persone poi mi scrivevano anche per dirmi appunto che gli è piaciuto anche dopo mesi allora se nel 2020 ad agosto con coraggio non riconoscevo che ho fallito e non cercavo una soluzione e poi non cercavo dei alleati sicuri non avrei creato il progetto e nel 2021 e già oggi è l'anno del mio maggior fatturato ovviamente non soltanto per il calendario perché ho fatto una rete che mi è stata d'aiuto anche per altri motivi di cui poi parleranno le successive mie colleghe sul falimento appunto allora questo talk parla del quando nel momento di imperfezione vuoi cercare un un migliore un migliore realtà e così ti metti in contatto con altri perché non siamo mai soli nelle difficoltà nelle momenti di bassa e il progetto mi è piaciuto così tanto che anche questo anno ho fatto un nuovo calendario per 2022 e questa volta con la tematica che penso abbiamo vissuto tutti anche in questo periodo difficile che è la mancanza del tempo la pressione che sentiamo dalla società soprattutto noi donne diventata ancora più forte come diceva anche Monia all'inizio noi viviamo e dobbiamo trovare questi spazi per avere del tempo per poter vivere questi spazi e questo nuovo calendario si chiamerà passeggiare nel tempo e vi auguro che questi due giorni siano per voi una passeggiata nel tempo per poter con serenità tranquillità con tutto quello che abbiamo qui a disposizione creare nuovi rapporti nuove relazioni ovviamente sono sostenitrice di oggetti fisici e ho portato delle cartoline mi sono permessa a portare le cartoline un omaggio per voi le troverete poi qui sul tavolino le lascio lì chi vuole prenderle perché vi ricordate che dietro angolo c'è sempre il fallimento vi aspetta qui è dietro la cartolina perché non mi sono fatta aiutare da un grafica per impaginazione e quello che trovate dietro è irriagibile forse meglio per voi così potrete regalarla tranquilli che non c'è la pubblicità dentro vi ringrazio tutti per questo spazio per questo tempo e vi auguro delle bellissime giornate di sole grazie 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 a tutti.